Animali scomparsi. Animali pesanti, vari centinaia di chili ritrovati schiantati al suolo. Animali mutilati dei loro organi interni, senza occhi, senza corna. Animali abbandonati in un luogo selvaggio che non vengono mangiati da altri animali selvatici, carnivori. È un film? È un qualcosa che mi sto inventando? No, è semplicemente quello che sta accadendo in alcune zone degli Stati Uniti e che sta allarmando l'opinione pubblica. Chi c'è dietro a queste cose? Probabilmente ci sono delle creature extraterrestri. Ne parliamo subito, ragazzi, in questo nuovo video di Paranormal Supercorris. Ho voluto fare un'introduzione alla Massimo Polidoro, non si arrabbierà, sono convinto, perché la volevo fare un po' più scenografica. D'altonde anche a noi ragazzi ci hanno copiato praticamente una marea di format, quindi che noi prendiamo spunto da qualche creator, dal maestro Massimo Polidoro, tra cui, non è che stiamo a parlare di uno qualsiasi. E quindi in cosa ci imbatteremo in questo video di Paranormale che torna dopo tanto tempo, e perdonatemi, ma adesso mi impegnerò a fare un video almeno a settimana? Nelle mutilazioni animali da parte degli alieni. Salve a tutti, friends, dal vostro Supercorris. Eccoci qua, ragazzi. Parliamo di un argomento molto importante e che ho voluto trattare perché l'ultima settimana, ogni volta che mi sono messo a letto verso l'una, l'una e mezza, accendendo D-Max, ho visto dei video particolari, delle trasmissioni particolari dedicate appunto a queste mutilazioni animali avvenute negli Stati Uniti. Sembra che sia un fenomeno dilagante e sempre più problematico, ma la cosa bella è che, come al solito, le autorità non parlano. Tutti i possessori di bestiame che stanno subendo questo scempio non hanno notizie su cosa possa essere a causare la morte di questi animali. è chiaro che prima di partire, come al solito, vi dico, sostenete questa serie se volete che vada avanti. Lasciate un like, seguitemi su tutti i miei social, sul primo canale che è questo, sul secondo Supercorris Gamer, sul terzo degli Shorts. E seguitemi sul canale Telegram dell'Offerte, Supercorris Offerte Amazon, dove a fine mese arriva il Black Friday, che noi compreremo tanta roba, quindi vi consiglio di iscrivervi perché troverete di tutto e di più. C'è il canale ufficiale Supercorris 84 di Telegram, dove voi stesse avete votato l'uscita di questo video oggi. Vi ho chiesto, tramite un sondaggio, volete vedere un nuovo video sul paranormale oggi? E ha stravinto il sì. Quindi, vedete, voi potete partecipare nella scelta di video e live che poi troverete sui miei canali. C'è il canale Viola, dove probabilmente anche questa sera tornerà una live. Allora, ragazzi, partiamo subito. Vari investigatori di UFO, di ufologia, si sono imbattuti in questo fenomeno. Questo è un fenomeno che sta avvenendo un po' in tutto il mondo, però ci sono alcune zone degli Stati Uniti dove il rapimento di bestiame, la mutilazione, l'uccisione di bestiame, in maniera assolutamente incredibile, adesso lo vedremo, sembra essere molto più diffusa. Sono zone desertiche, dove quindi ci sono queste grandi mandrie che vanno al pascolo in questi enormi ranch. Sono zone che ridanno la vicinanza ad alcune basi militari, dove si dice si stiano svolgendo esperimenti. Quindi sono zone che non sono lontane dalle varie area 51. E tutte quelle zone americane dove c'è una base militare e accadono cose strane. Perché? Ora, non è detto che siano per forza extraterrestri, anche se ci sono prove che indicano questo. Alle volte potrebbero essere anche effettivamente veivoli terrestri che stanno sperimentando qualcosa di particolare di cui non si sa nulla. Perché ragazzi, se già negli anni 40 l'esercito americano aveva colloqui con gli extraterrestri e aveva attinto a tecnologie extraterrestri, figuriamoci oggi dove sono arrivati e nessuno lo può sapere. Il discorso però qual è? È iniziato questo fenomeno da tanti anni, però adesso sembra essersi sempre più infittito come fenomeno, accade sempre più spesso e molti proprietari di bestiame non sanno come porre rimedio. Perché? Cosa accade nello specifico? specificatamente appunto ci sono degli animali come le mucche, i tori che vengono uccisi. Durante la notte, quando il mattino successivo il proprietario, il mandriano si sveglia, trova questi animali morti in maniera assurda. Perché? Spesso e volentieri, alle volte scompaiono proprio, quindi vengono prelevati e fatti scomparire. Alle volte accade che questi animali vengono trovati schiantati al suolo. Un animale che pesa diverse centinaia di chili. Ricordiamo che una mucca pesa dai 300 chili in su, può arrivare a 600-700 chili. Non si capisce come sia possibile che qualcosa prelevi questi animali, li faccia salire in alto, li lascia cadere e schiantare al suolo. Quindi le ferite ritrovate su molti di questi animali sono prevalentemente ferite dovute a schianti al suolo da grandi altezze. Chi può sollevare un animale del genere e farlo schiantare al suolo? Nessuno. Ma se anche uno facesse uso di una ruspa, di un oggetto, non riuscirebbe ad arrivare a quelle altezze. Altro mistero, come mai a questi animali spesso e volentieri vengono asportati organi interni ed esterni? Alle volte gli vengono asportate le corna in maniera chirurgica perfetta ed è un lavoro che richiederebbe ore. Gli occhi, vari organi interni. Quindi questi animali vengono ritrovati morti, aperti al loro interno e con vari organi interni asportati. In maniera chirurgica. Cioè non io lo taglio, sono uno che, un macellare, lo taglio, lo apro l'animale, prendo quello che devo prendere in maniera chirurgica. Cioè a cosa servono questi organi? Qui entriamo in un altro ambito che è quello dei rapimenti alieni. Molti di questi proprietari di Ranch, alle volte tutti hanno avuto avvistamenti UFO nelle loro proprietà, quindi luci nel cielo, luci che causavano terremoti improvvisi alla loro casa. Alcuni sono stati rapiti e hanno parlato appunto con queste popolazioni aliene che gli hanno rivelato come ci sia sulla Terra nascosto una federazione galattica che conta più di 200 specie di alieni. Vi ricordate, ne abbiamo parlato anche nel caso Amicizia, gli alieni che sono stati avvistati qui in Abruzzo a Pescara, che avevano dichiarato che ci fossero 200 specie aliene sulla Terra che si nascondono prevalentemente dove? Secondo quello che hanno riportato questi testimoni. Sott'acqua, quindi negli abissi dove non possono essere trovate, all'interno delle montagne, infatti non a caso tante volte sono stati avvistamenti UFO all'interno di vulcani. Ecco perché tante volte le navicelle spaziali, queste luci escono dagli abissi del mare, perché sono i luoghi dove è più difficile trovarli. Quindi questi testimoni hanno dichiarato che proprio questi alieni gli hanno detto che stanno facendo esperimenti per poter creare delle razze ibride. Allora, da quello che ci ho capito io studiando quello che ho studiato e vedendo quello che ho visto, ci sono delle razze aliene nell'universo, sono tantissime, che praticamente si rendono invisibili a noi perché riescono ad andare in altre dimensioni, nella quarta e nella quinta dimensioni, dove noi non riusciamo a vederli, a percepirli. Queste razze aliene hanno problematiche nel riprodursi e quindi stanno attingendo dagli esseri umani. Non a caso ci sono molti rapimenti di donne che in una notte sono state rapite, ingravidate, gli è stato tolto il feto, si sono risvegliate la mattina nel proprio letto, tutte spostate col sangue, hanno eruttato sangue al bagno, ne parleremo in altri video. Molte sono state fatte vedere anche i figli degli ibridi umani alieni. Si presume che alcune razze hanno bisogno degli organi interni di questi animali e per studiarli, quindi prelevandoli agli animali e non agli esseri umani. E perché evidentemente certe razze stanno creando delle razze ibride appunto servendosi degli organi interni degli animali che possono tornare utili. Queste sono le teorie più probabili che sono state rivelate da chi è stato rapito e ha parlato con questi alieni in maniera telepatica. Ha comunicato con loro, ne parleremo in altri video perché è un discorso molto bello da seguire. Altre cose incredibili è che questi animali morti in una zona desertica dove ci sono jaguari, cani della prateria, coyote, non vengono assaliti ma neanche dagli uccelli, dai corvi, da tutti quegli uccelli che trovando una carcassa morta si avventerebbero per cercare di mangiare e di nutrirsi. Ed è incredibile come nessuno di questi animali si avvicina a quella carcassa lì morta. È inspiegabile. Come hanno detto parecchi proprietari di Rancho, hanno detto di solito quando muore un animale i predatori vanno là e se lo mangiano subito ed invece quando ritroviamo questi animali in queste condizioni nessuno si avvicina. Non c'è mai sangue nella scena del rapimento e della morte di questi animali, non c'è mai sangue. Quindi voi ditemi come è possibile che uno sventra un animale, gli ruba gli organi interni e nelle vicinanze non c'è una goccia di sangue. Sembra che questi animali siano prosciugati anche del loro sangue. E in più si rilevano enormi campi elettromagnetici nella zona in cui questi animali vengono rapiti. Che spesso e volentieri stanno a significare che c'è una forza potente che è stata lì con veivoli particolari e ha lasciato questi campi elettromagnetici. Quindi vedete ragazzi, sono tutte cose spiegabili, a cui nessuno dà risposta perché poi i proprietari di questo bestiame quando si sono rivolti alle autorità hanno ricevuto un... non è niente di normale, sono morti questi animali. Nessuno gli dà risposta. E grazie anche agli avvistamenti alieni che hanno avuto loro in quella zona di veivoli particolari, si presume sia appunto una metodologia aliena per prelevare organi di cui hanno bisogno. In questa maniera assurda ragazzi, è assurdo. Quindi è chiaro che svilupperemo il discorso in altri video. Intanto mi faceva piacere darvi un'infarinata generale all'inizio per farvi rendere conto che è un fenomeno di cui potete consultare il web pieno. Un fenomeno sempre più dilagante che lascia preoccupati tanti. Vi aggiungo l'ultima cosa. Spesso e volentieri dove avvengono queste cose? Il campo elettromagnetico è così ampio in quanto altri animali si ammalano e muoiono di malattia. Non a caso molti proprietari di Rancho hanno dichiarato che molti dei loro animali sono ammalati di tumori, di malattie strane proprio perché hanno pascolato nella zona dove questi veivoli alieni hanno rapito e hanno diciamo ucciso questi animali, hanno lasciato un campo di radiazioni così ampio e gli altri animali si sono ammalati e sono morti. Fatemi sapere se vi piace questo video perché ora faremo sempre video dove io parlerò, non prenderò spezzoni di altre trasmissioni perché poi il copyright mi blocca e ci vediamo nei prossimi video del vostro Supercore. Ciao, vogliamo! Ciao, vogliamo!